segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te sono le cinque di mattina siamo a milano e la fila davanti alla questura è già iniziata lei signora da dove arriva il salvador da quanto tempo è in fila un mese e due settimane della 8 della notte a 8 della mattina sono i migranti che chiedono l'asilo ai due bambini piccolini le bambini porto alla scuola saltano quindi tu ogni martedì ogni venerdì vieni qui con i bambini e loro non possono andare a scuola perché tu non li puoi accompagnare quindi devono stare con te cinque mesi sei mesi qua tu come sei arrivato in italia io apidi torquia grecia albania montenegro serbia hungaria austria e qui in italia questa legiziana non va bene guarda guarda stanno litigando per il posto sono le sette sta arrivando la polizia prima che apra la questura finché non entrano la prima volta a questo primo accesso sono invisibili e irregolari il tema per cui chiedono tutti l'asilo è perché non c'è altro modo di regolarizzarsi sono le otto hanno aperto la porta la polizia sta facendo arretrare i migranti non sei riuscito a entrare torni qui domani 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 veri tutti tutti i giorni non è riuscita a entrare alla fine ancora no tanto aspettare aspettare l'altro turno e l'altro giorno donno 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 Grazie a tutti.